Bungie, passaggiore, siamo pronti, we are ready for the first jump. Florian, are you ready? Yes. Dovresti vedere lo sguardo del nostro amico, lo vediamo un po' preoccupato. Io a questo punto direi di far partire la base dalla nostra regia. Eccola che arriva e ora Florian ha bisogno di tutti voi. Dovete aiutarlo con un grande applauso. Ladies and gentlemen, and a big beat up for Florian! Ok Florian, hai tutti gli occhi su di te, per cui ce la devi fare e non vuoi più tirarti dietro tutto, ok? Are you ready? Yes. All right. Acqua avanti, alza la testa al cielo, link your hand for the first jump and now come down with me. Three. Two. One. Jump! E lo vediamo ora il nostro amico dai 60 metri della torre del Bungie Jumping. E a questo punto a noi non è stato ricordarvi che se volete provare anche voi come Florian, il privido e l'adrenalina dei 60 metri del Bungie Jumping, basta portarsi ai piedi della torre e avrete tutte le informazioni necessarie. I remember that if you want to jump, you must go on the foot of the tower. In ogni vi ricordiamo che fra pochissimo saremo a fan di l'arco del circo di Alcualandia. In altri minuti vi are in the party, the zone for the circus. Già doing nulli... Bellassi... ... ... ... ... Grazie.